Disagi, viaggi interminabili, lezioni perse ed esami saltati, la triste odissea che vivono i pendolari, in particolare studenti andriesi, che sono costretti a viaggiare sulla tratta ferroviaria Bari Nord, un problema che ormai quasi non fa più notizia per la rassegnazione di chi è costretto a inventarsi anche nuovi modi per raggiungere il capoluogo oppure l'Interland barese. I treni continuano a non arrivare ad Andria ormai dal 2016 e i mezzi sostitutivi di ferro-tranviaria sono decisamente insufficienti per una popolazione così grande tra studenti e lavoratori, specialmente al mattino. Due solamente sono le corse dirette senza scalo accorato. Allora, normalmente appunto con il diretto siamo lì la mattina un'ora e un quarto, traffico permettendo, e per il ritorno dove c'è appunto lo scalo accorato, dove c'è necessità di prendere l'autobus per il ritorno, parliamo di un'ora e 45 minuti abbondanti insomma. Sono queste le voci di alcuni dei pendolari raccolte alla fermata del bus a confermare i tanti disagi vissuti tutti i giorni. Anche per il ritorno le corse dirette sono solo due. In alternativa, il viaggio dura ormai quasi due ore senza considerare spesso i ritardi. Terminando le lezioni in tardo pomeriggio bisogna affrontare un viaggio di quasi due ore in treno e si arriva a casa praticamente alle nove e per la vita di un universitario comunque non sono orari che si prestano bene allo studio. Nel momento in cui finiscono prima le lezioni, quel tempo non viene a meno da parte di me recuperato perché appunto il viaggio di ritorno passando per Corato dura comunque un'ora e 45. A questi vanno aggiunti i problemi tecnici, i guasti e i mezzi che allungano ulteriormente la durata del viaggio ed alcune volte lo rendono davvero un'epopea. L'ultimo guasto proprio negli scorsi giorni, quando i passeggeri diretti a Bari hanno dovuto proseguire il viaggio con bus sostitutivi. Mi è capitato di aspettare parecchio sia la fermata sia nel treno, lungo la tratta. Un giorno dovevo prendere il pullman delle 7 ma nonostante ci fosse quello a due piani era rimasto completamente pieno e quindi io e un'altra mia compagna abbiamo aspettato per l'autobus delle 7 e mezza perché altrimenti prendere quello delle 7 e 03 che passa da Corato diciamo sarebbe significato arrivare a Bari dopo un'ora e 40. Insomma disagi su disagi, aggravati ulteriormente con l'aumento del costo del biglietto e degli abbonamenti dal primo gennaio di circa il 6%, un fattore che incide fortemente sulla situazione economica familiare soprattutto se ad usufruire del servizio sono magari anche più componenti per studio o lavoro. Siamo in due a casa ad usufruire di questo servizio quindi potete ben capire insomma che con l'aumento dei prezzi il peso che grava sulla mia famiglia è il doppio. Ne saremmo contenti se all'aumentare del prezzo ci fosse anche un giusto servizio ma in alcuni casi parliamo di un disservizio ma non di un servizio efficiente. Un vero e proprio viaggio della speranza in attesa che venga riaperta la stazione di Andrea Sud per cui si attende ancora il via libera dell'ansfisa. Grazie. Grazie.